Il presidente della regione campagna Vincenzo De Luca con propria ordinanza disposto con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 la chiusura degli esercizi pubblici di barbiere, parrucchiere e centri estetici. Intanto arrivano buone notizie dal Cilento dove la biologa 26enne di Montano Antilia è guarita dal coronavirus e sta bene. La giovane risulta la prima contagiata da coronavirus nel Cilento ed è stata dimessa ieri pomeriggio dall'ospedale Cotugno e potrà finalmente tornare alla normalità, un incubo che finisce per una ragazza che per due settimane è stata ricoverata nell'ospedale napoletano. A dare la bella notizia il sindaco di Montano Antilia Luciano Trivelli. Intanto nella giornata di oggi il prefetto di Salerno ha tenuto un incontro con i vertici provinciali delle forze dell'ordine, a seguito del quale sono emerse immediate attività programmate per garantire il rispetto delle misure precauzionali nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e 9 marzo scorsi. In particolare, fermo restando le disposizioni che riguardano i singoli cittadini e i nuclei familiari a cui si raccomanda sempre una consapevole gestione della propria vita quotidiana nell'ottica del rispetto delle direttive impartite, saranno consentite solo attività sportive ricreative e ludiche all'aperto, sempre prive di assembramenti. A partire da oggi saranno monitorati con il concorso anche della Polizia Municipale e del coordinamento del questore le attività di ristorazione bar che dovranno assicurare gli orari di apertura dalle ore 6 alle 18, oltre che rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. Il rafforzamento dei controlli sarà finalizzato anche al monitoraggio degli spostamenti per i quali potrà essere richiesta idonea giustificazione. Sono in atto infatti su tutto il territorio del Vallo di Diano serrati i controlli da parte delle forze dell'ordine.